Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come. La storica conduttrice si trova nel bel mezzo di cambiamenti importanti nella sua vita. Quanto accaduto ha stupito tutti. Come non associare Barbara Palombelli al volto noto di Forum, nonché quello di Stasera Italia. In molti ricorderanno le numerose polemiche che ha generato il passaggio dalla conduzione di Rita dalla Chiesa, che ne ha preso il timone per diversi anni, alla stessa Barbara. Nonostante questo la conduttrice si è rivelata davvero adatta a questo tipo di trasmissione. Tanto da diventarne il pilastro. Il suo carattere pacato, analitico e per certi versi, di ghiaccio, ha attribuito uno stampo davvero professionale alla donna, che difficilmente diventa oggetto del gossip all'italiana. Tra i suoi più grandi lavori l'abbiamo vista in programmi come Matrix, quarto grado e in testate come La Repubblica e Il Corriere della Sera. E per quanto riguarda la sua vita privata? La famiglia di Barbara Palombelli. Barbara conta un matrimonio di oltre 30 anni con l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. La coppia ha ben quattro figli, di cui tre sono adottati. Giorgio è nato dalla coppia. Invece Francisco è arrivato dall'Equador nel 1993. Le sorelle Serena e Monica, sono entrate a far parte della famiglia nel 2000, a seguito di diverse violenze fisiche da parte del padre naturale. A queste ragazze Barbara ha donato tutto il suo supporto materno. Regalandole una vita migliore e una famiglia degna d'essere chiamata tale. Barbara dal canto suo, ricorda benissimo la sua infanzia. Segnata da un padre che era un ufficiale di Marina. Che sin da quando era una bambina ha sempre lasciato un'impronta severa e composta. Barbara ad oggi è cresciuta e riesce a mantenere in ogni occasione la sua compostezza. Nonostante ammetta che in realtà è più fragile di quanto possa sembrare. Ad ogni modo, un dettaglio della sua vita ha catturato l'attenzione dei telespettatori. Siamo giunti al periodo estivo e gli impegni lavorativi per molti personaggi si sono conclusi per dar spazio a sole, mare e relax in compagnia delle persone più care. Tuttavia, questo è anche un periodo di grandi cambiamenti. Soprattutto per i programmi che ci hanno intrattenuto in questa stagione ormai conclusa. Barbara Palombelli, 69 anni, è in un periodo di stravolgimenti nella sua vita. Visto che da tempo lamenta di voler allentare i suoi ritmi lavorativi per passare più tempo con la sua famiglia. In tutto ciò arriva l'inaspettato divorzio. Ma non con il marito. Bensì con lo storico programma Stasera Italia. A quanto pare la donna è stata messa davanti a due scelte. La conduzione del programma giuridico o nel talk politico e di attualità. Barbara ha così scelto forum, trasmissione a cui lei è molto legata. In merito a questa decisione, l'opinionista e giornalista Giampiero Mughini ha voluto dire la sua. Secondo l'uomo, lei avrebbe scelto di «parlare di teatro piuttosto che di politica partitante», riferendosi al fatto che i partecipanti in studio sono attori che recitano la parte dei veri protagonisti delle storie proposte a forum. Ad ogni modo il divorzio di Barbara è decisivo, e a prendere il suo posto a Stasera Italia sarà Bianca Berlinguer. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.